Avanti tutta al fianco del sindaco Domenico Messinese è questa l'esortazione del Metap Gela Comune 5 Stelle. Questo sicuramente fa piacere ma soprattutto dimostra che Gela ha tutta una serie di sfaccettature. C'è chi tenta essere costruttivo ed analizzare quello che realmente si sta facendo e quali sono gli obiettivi all'interno del programma e chi realmente li sta seguendo, chi li vuole raggiungere, chi invece vuole tutto e subito, cosa un po' difficile da raggiungere. Comunque credo che siano tanti i gelesi che abbiano compreso che l'attività dell'amministrazione è quella di aver preso in mano una città con seri problemi, problemi atavici che giustamente non sono di immediata risoluzione. E intanto il primo cittadino attende che venga esitato il ricorso contro la sua espulsione dal Movimento 5 Stelle. Ma il ricorso l'ho fatto non tanto per dare una risposta allo staff di Beppe Grillo che dalle dichiarazioni fatte da diversi esponenti è sempre più che altro una mera formalità ma per comunicare alle tante persone per bene che credono nel Movimento 5 Stelle quali sono le motivazioni vere che le motivazioni che sono state adotte sono sostanzialmente ipocrite e non portano alla verità e che la verità è perché il sindaco di Gela ha deciso di cambiare degli assessori di cui non riponeva più la sua fiducia e che lo ha fatto per poter dare delle risposte alla città di Gela. E credo che tra dare risposte a organi di partito o ai cittadini di Gela io non ho dubbi preferisco dare delle risposte certe ai miei concittadini. Continua nell'emore l'azione amministrativa. Ieri il sindaco e alcuni componenti della giunta hanno incontrato i residenti del quartiere Settefarine. Abbiamo incontrato i residenti di Settefarine come abbiamo già incontrato i residenti di Manfre, Macchitella, di Cantina Sociale. La cosa importante è continuare questo rapporto con i cittadini perché la città non è dell'amministrazione ma dei cittadini gelesi. Quindi questi momenti di incontro dove magari ci può essere anche la possibilità di sfogarsi per i tanti disservizi che negli anni si sono accumulati ma servono anche per fare il punto di quali sono gli obiettivi più importanti da perseguire e quindi per l'amministrazione diventa fondamentale come strumento di indirizzo per dare quelle risposte che in tanti danni aspettano e che fino ad oggi non hanno avuto nessuna risposta effettiva.